Ciao a tutti, come farlo? Innamorare perdutamente. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo gli appuntamenti di Torino, venerdì 31 gennaio 2020, ora 20.45, col mio seminario Fai volare la tua autostima, riferimento 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre l'appuntamento di Milano domenica 1 marzo, full immersion, dalle 9.30 alle 19, autostima e seduzione, in amore e nel lavoro, riferimento 333 15 11 703. E ti ricordo inoltre che puoi abbonarti al canale Massimo Terramasco per intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me, scegliendo il livello base o il livello top e anche al canale Felicità Benessere però per sostenere il canale, per partecipare al progetto live. E adesso veniamo al tema come farli innamorare perdutamente. Bene, ci sono alcune regole fondamentali che devi sapere per interagire con questa persona. Intanto la prima cosa da fare è avere autostima, perché se tu non hai autostima vai a, ti crei una credenza diciamo che devi accettare tutto e quindi accetti anche le cose più indegne. Chi non ha autostima tenderà ad attrarre donne, tenderà ad attrarre una donna che non ha autostima, tenderà ad attrarre uomini maleducati, che la tratteranno male, che le faranno un sacco di corna e che poi la lasceranno. Quindi la prima cosa che devi fare è avere autostima. Per avere autostima bisogna intanto venire al mio seminario a Torino venerdì 31 gennaio 2020, ma al di là di quello devi iniziare a mettere dentro dei pensieri, i pensieri fondamentali per avere autostima. Perché noi abbiamo tre chiavi di autostima e queste tre chiavi di autostima sono il pensiero, diciamo così, di avere la forza di conquistare, il pensiero di conquista, il pensiero di superare gli impedimenti e il pensiero di essere allineati con l'universo, di essere fortunati. Ecco che questi tre pensieri chiavi servono per raggiungere degli obiettivi fondamentali dal punto di vista personale, perché inizi a strutturarti. Ma come devi inserire dentro questi pensieri, dentro la tua mente? Devi inserirmi quando sei emotivamente attiva, perché, come dire, la suggestione, in questo caso l'autosuggestione, in questo caso l'autoipnosi, è un messaggio che devi darti quando sei in uno stato di emotività forte. Quando vivi in uno stato di emotività forte, allora puoi inserire dentro dei pensieri positivi, perché questi pensieri positivi tenderanno a diventare una suggestione. La suggestione è un messaggio che per un particolare stato di coscienza nel quale viene immesso tende a diventare, diciamo, un messaggio, una suggestione, tende a diventare la tua realtà. Una volta che hai fatto questo, devi iniziare a capire chi è davanti, la persona che è davanti. Per fargli perdere la testa, se è una persona iperlogica, e lo riconosci, ho fatto diversi video, va a televedere, devi entrare con una motivazione e poi dare e togliere, dare e togliere. Le persone iperlogiche si deve conquistare sempre dando e togliendo, dando e togliendo, perché hanno sia una parte logica che una parte emotiva e che vogliono esattamente la cosa opposta. Quindi, mentre sei una persona emotiva, devi capire se si aggancia sul desiderio o se si aggancia sul possesso, perché se si aggancia sul desiderio devi presentarti e scappare. Se si aggancia sul possesso devi presentarti e poi, quando lui fa qualche manifestazione, fare un po' di pressing per riuscire a coinvolgerlo. Poi devi capire se devi presentarti come più materna, anche nell'abbigliamento, anche nel modo di fare, oppure più duro e rigida. Cioè, preferisci il modello Catwoman, con minigonna, autoreggente e frustino, oppure preferisci il modello mamma, più femminile, dolce, meno aggressiva. Ecco, questo lo puoi capire dal simbolismo. Qual è il simbolo che coinvolge questa persona? Non è così difficile scoprirlo, per capirlo però devi poter interagire emotivamente con questa persona. Farò dei prossimi video in cui ti spiegherò esattamente tutte queste situazioni, come fare per ognuno di questi punti. Quindi non perderti i prossimi video su questo tema. Intanto iscriviti al canale. Ti ricordo, l'appuntamento di Torino, venerdì 31 gennaio 2020, ora 20.45, con il mio seminario da titolo Fai volare l'autostima! Riferimento 333 15 11 703 e vatti a abbonare al canale. Ciao a tutti!